Il capo della compagnia di soldati mercenari del gruppo Wagner, Evgeni Prigozhin, ha dichiarato di aver completato la cattura della città di Bakhmut, in cui si combatte la battaglia più logorante dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. La presa della città ha richiesto 224 giorni, ha fermato Prigozhin, annunciando che la città verrà consegnata all'esercito russo il 25 maggio, quando le milizie mercenarie potranno finalmente ritirarsi. Solo pochi giorni fa Prigozhin criticava il comando militare russo per aver fatto arretrare le sue truppe nella città, concedendo all'avversario ucraino una posizione di vantaggio. Immediata la smentita del portavoce delle truppe ucraine dell'Est, secondo cui i soldati di Kiev continuano a combattere.